Con il presidente di Chiedi Solidale parliamo di questo monitoraggio. Cosa è uscito fuori da questa indagine che avete portato avanti? Noi abbiamo incominciato a gestire questa nuova piattaforma, questo nuovo modello organizzativo, già a fine aprile e inizio maggio. Abbiamo iniziato con un progetto sperimentale all'interno solo di pochi servizi per verificare anche la fattibilità del progetto. Abbiamo cercato di dare questa oggettività, trasparenza e dare dei parametri di efficienza sia per noi stessi che ci andiamo a confrontare all'esterno, sia per quanto riguarda il comune che ci affida i servizi e deve vigilare soprattutto sulla nostra attività, ma anche per i cittadini che usufruiscono i nostri servizi, che si devono sentire tutelati e anche i cittadini che non usufruiscono e che vogliono capire di più cosa fa Chiedi Solidale e come vengono gestiti i soldi pubblici. Questo è un risultato importante perché abbiamo visto innanzitutto l'estrema professionalità dei nostri dipendenti, tutto il team dei servizi sociali ha erogato dei servizi ad alta prestazione e ad alta efficacia sulla popolazione residente a Chiedi. Questo ci fa ben sperare in quanto il progetto entro la fine dell'anno verrà espletato su tutti i servizi gestiti da Chiedi Solidale e dal piano di zona, sempre per dare una risposta puntuale alle esigenze del territorio. Abbiamo raccolto per ciascuna delle circa 60 prestazioni erogate degli standard, abbiamo descritto le volontà dell'azienda, abbiamo definito anche delle parametri, delle indicatori di performance, quanto siamo puntuali, quanto siamo professionali. È stato riqualificato complessivamente tutto il personale, sono stati dati degli indici obiettivo. Da oggi i nostri operatori non possono tardare più di 10 minuti. Tutto supportato da tecnologia, quindi ogni azione viene perfettamente tracciata. L'operatore domiciliare ha uno smartphone, l'utente ha una smart card, si incontrano miracolosamente e ci segnalano quando ha avuto accesso al domicilio, quando è uscito e tutto viene calcolato in tempo reale. Vi assicuro che è un'iniziativa unica, praticamente in Italia, di un modello così approfondito, di qualità, così controllata e certificata, tutto in forma trasparente. Tutti possono sapere che cosa avviene in tempo reale in favore delle persone assistite dal Comune attraverso l'azienda Chiedi Solidale.